Grazie a tutti. Sono anche motivati, nel senso che abbiamo apprezzato questa iniziativa specifica dell'Istituto perché è rivolta ad un patrimonio veneziano, che è il vetro artistico, il vetro di qualità. Tema su cui non temiamo smentite, nel senso che basta visitare il bellissimo museo di Murano per cogliere questa storia con anche l'attualità, ma che non è dato per scontato rispetto al fatto che Murano, ad esempio, oggi è area di crisi, è stata definita area di crisi. E' che la possibilità che questi artisti si esprimano, nel senso di produrre qualità, l'unico modo per competere nel mondo, a mio avviso, è legata strettamente al fatto che esistano le condizioni in quel territorio per mantenere, come dire, prima di tutto l'orgoglio della propria professione e poi le possibilità di avviare attività, anche con ritorno economico, perché altrimenti non vedo come potrebbero sostenersi, e soprattutto frenare un processo di dequalificazione, soprattutto a livello commerciale, non tanto a livello produttivo, che ci preoccupa molto, perché riteniamo che l'unico termine economicista che uso, il brand di Murano, sia, come dire, una risorsa che va valorizzata, ma non può essere fatta questa operazione in modo tecnicistico, può essere fatta in questo caso solo coinvolgendo le volontà e le capacità, per cui essere maestro del vetro è un fatto d'orgoglio, ancora oggi del vetro, perché così si trasmette una cultura e una tradizione. E allora per questo noi, come piano strategico, abbiamo acceso i nostri riflettori, proprio su Murano, come realtà complessiva, quindi realtà che consente come risultato finale l'espressione artistica di questi prodotti, ma che ha un insieme di problemi che devono essere affrontati e portati ad una soluzione in modo tale che si possa contare su questa tradizione nel tempo. In questo percorso siamo affiancati dalle volontà delle istituzioni, ho parlato prima di musei civici, di museo di Murano, ma mi riferisco anche a Confindustria, Confartigianato, che assieme a noi hanno capito che questo è il momento di spingere il pedale per creare, per evitare, perché qui siamo, dicevo prima al Presidente, è come per le specie rare, una volta che sono scomparse non ricompongono più, non ricompaiono più, cioè non c'è più la possibilità di ricostituire quel tipo di tradizione. Per cui non si può scherzare su questo tema, cerchiamo anche di ragionare, qui poi con l'Istituto Veneto faremo anche un ragionamento un po' più organizzativo, stiamo anche immaginando un'operazione di rilancio a livello internazionale, a livello di, chiamiamola una biennale del vetro, adesso poi il termine non è così, non vogliamo scimmiotare altre iniziative, però il livello a cui tendere è quello, non altro, per evitare che l'insularità crei, diciamo, problemi di chiusura al confronto, invece noi vogliamo che il vetro di Murano, il vetro artistico di Murano, si confronti con il mondo e acquisisca e dia al mondo, è l'unico modo per, tanto per capirci, e qui faccio un esempio penalizzando il vetro, noi vorremmo degli armani del vetro, se possibile, perché riteniamo che su quella qualità riusciamo a vincere, non è un'operazione semplice, perché dietro, ripeto, occorre creare tutte le condizioni per che questo possa avvenire. In questo senso sono grato al Presidente dell'Istituto Veneto, perché queste iniziative vanno in quella direzione, vanno nella direzione di valorizzare il patrimonio del vetro di qualità e diffondere, a livello locale, ma nel mondo, questo tipo di tradizioni nel modo più opportuno. Grazie. Ancora il piacere di dare la parola a Dovesse Gabriele Belli, direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia. Grazie, grazie Presidente, buonasera. Io innanzitutto devo dire che sono molto onorata di essere qui, in questa occasione, che per me è una delle mie primissime uscite pubbliche, quindi sono anche un po', insomma, proprio felice e anche un po' timorosa, insomma. Tutti mi dicono che Venezia è una città complicata, dunque, sono comunque molto interessata a questo straordinario progetto, perché forse anche per la Fondazione Musei Civici il tema del vetro, da subito, da quando sono arrivata, cioè dal primo di dicembre, è stato uno dei punti cruciali di tutta la nostra discussione interna. Devo anche dire che è forse tra tutte le nostre sedi e le nostre specificità anche quella disciplina, quel materiale, quella straordinaria creatività e mondo artistico sul quale la Fondazione sta facendo anche un grande sforzo. Io ho ereditato dal mio predecessore Gian Domenico Romanelli un bellissimo progetto, importante progetto, che è il progetto dell'ampliamento del nostro Museo del Vetro, che dovrebbe, entro il 2013, poter mettere a disposizione della città, ma ovviamente di tutto il mondo internazionale interessato a questo particolare settore artistico, un museo completamente rinnovato, con un'aggiunta significativa di spazio, il che ci fa ben sperare su un futuro importante che possa proprio dall'impegno culturale, dall'impegno scientifico, dall'impegno del museo, ristabilire una funzione altrettanto importante dell'impresa vetro. Chissà che in questo Paese una volta tanto non si possa far discendere veramente da un grande progetto culturale anche un ritorno forte dal punto di vista economico. Spesso sono state le grandi economie a sviluppare i progetti culturali, e invece questa volta noi speriamo che in fondo il processo vada all'incontrario, ma che questo grande impegno della città, della fondazione, dell'istituto, ma anche di altri soggetti, leggevo anche la fondazione Cini, ovviamente l'università. Ecco, io credo che noi dovremmo anche fare una riflessione comune perché esiste, secondo me, la possibilità per ritrovare una leadership forte in questo campo. C'è anche la possibilità di immaginare in via permanente un centro studi in via permanente, e soprattutto pensiamo allo straordinario mondo degli archivi. Io, per mia esperienza personale, forse quasi una deformazione professionale, ho sempre amato molto gli archivi, ho cercato di conservarli per il Novecento, il futurismo, eccetera. Però ecco, io credo che dovremmo fare insieme tutti questi soggetti una riflessione perché penso che la straordinaria ricchezza degli archivi storici, degli archivi delle imprese, che naturalmente potrebbe essere, so che si sta già ragionando, so che si sta facendo, però io sono anche convinta che più soggetti riescono a dare le loro competenze, il loro impegno, noi potremmo sicuramente creare a Venezia, come diceva lei, Presidente, che già voi state aprendo una strada importantissima, che è quella della conoscenza da un lato, ma anche un certo dibattito, per esempio, ho visto anche sul tema del restauro, che è uno dei grandi temi forse che oggi rimangono anche più scoperti magari del restauro, si parla sempre del restauro dell'arte contemporanea, ma esiste anche un grande tema legato al restauro delle altre arti. E quindi io vorrei, mi piacerebbe, penso che questo problema vetro dovrebbe in realtà diventare un futuro vetro, darci la possibilità di andare a creare davvero insieme, laddove possibile, o con apporti congiunti, davvero un luogo che poi diventi, e che prenda una leadership internazionale in questo campo. Io credo che la cultura davvero possa giocare una carta particolarmente significativa e quindi, come dicevo prima, sperare che dalla cultura discenda anche una rinascita di questa straordinaria eccellenza. Grazie. Mi permetto di sottolineare questa cosa importantissima che ha detto il dottor Sabelli. Cioè, a Venezia c'è effettivamente una massa critica, c'è una massa critica di cultura, che per qualche ragione non riesce ancora a esprimersi. Si vedono delle punte di iceberg, ma io credo che invece sotto ci sia molto materiale e molta buona volontà e molta disponibilità. A me non piace quelle cose che si sentono ogni tanto dire, mi spiace degli industriali, fate squadra, fate squadra. Non è fare squadra, non ha senso. Si tratta di mettere insieme le competenze, si tratta di parlarsi e di ideare. E questo non deriva da un lavoro con squadra e capisquadra, deriva dalla cultura, che la cultura vuol dire apertura, vuol dire rispetto reciproco, vuol dire tutta una serie di cose che non sono nelle squadre. Mi scusa di essere intervenuta ancora e dalla parola alla dottoressa Rosa Barovia Mentasti, storica del vetro. Tocca a lei. Tocca a me? Non è il professore che è la persona. Dunque, io volevo dire due cose. Una, certamente nel XIX secolo la rinascita del vetro di Murano è stata collegata strettamente alla presa di coscienza dei muranesi del loro patrimonio culturale. Quindi, in sostanza, quando hanno recuperato le tecniche antiche, hanno rilanciato il vetro di Murano, hanno anche capito il patrimonio, forse per la prima volta in realtà, prima vivevano, diciamo, alla giornata. Nell'Ottocento, con la cultura storicistica che c'era, hanno veramente preso coscienza della loro storia e hanno rilanciato il vetro con un sentimento di amor patrio nei confronti proprio di Murano, non di Italia, di Venezia. Quindi, certamente, la valorizzazione culturale di una tradizione serve per il rilancio e anche per la promozione. Io, quando faccio una conferenza sul vetro, modestamente, e racconto di quello che ci sta alla base, di un oggetto, di cristallo, di Murano, eccetera, e spiego, vedo che la gente dice capisco perché vale, capisco perché costa, capisco perché vale la pena di comprarlo. Questo è un aspetto, però, in realtà, la nostra iniziativa è tutt'altra. Quindi può servire anche a questo, però, in realtà, l'obiettivo di queste giornate di studio è meramente culturale. E' il momento, il momento giusto per studiare il vetro veneziano del rinascimento. E ci sono stati anni in cui si sono valorizzati soprattutto i vetri del ventesimo secolo, Venini, straordinario, anche il diciannovesimo secolo, eccetera. Per paura, secondo me, in qualche modo, si è sempre trascurato di affrontare questo tema veramente spinoso, che è il vetro veneziano del rinascimento. Perché? Perché è ricchissimo di aspetti molto complessi, perché ha delle interazioni col vetro esportato all'estero e prodotto dai vetri veneziani emigrati. Quindi è difficilissimo adattare un oggetto, difficilissimo dire se è veneziano oppure prodotto dai vetri veneziani emigrati in Fiandra piuttosto che in Austria, eccetera. Adesso è il momento giusto. Faccio presente che l'amico che vedo qui, Erwin Baumgartner, ha fatto anni fa un catalogo dei vetri veneziani del Museo delle Arti Decorative di Parigi. Ancora trent'anni fa, un genio della storia del vetro, Hugh Tate, ha fatto una bellissima mostra, The Golden Age of Venetian Glass, al British Museum. In qualche modo, non ha preso in considerazione tutto l'enorme patrimonio del British Museum, che abbiamo comunque là, in qualche modo, riordinato. Esistono delle collezioni meravigliose al Vienne, al Victorian del British Museum, al Louvre, al Corne del Museum Glass e anche al Museo Vettorale di Murano, mai studiate a fondo. E quando dico studiate a fondo, non dico datate e attribuite, dico anche, in qualche modo, percepito l'ambiente culturale da cui vengono fuori. Cioè, per esempio, un oggetto, un vetro smaltato veneziano del Rinascimento, decorato con le grottesche, a questo punto dobbiamo chiederci quali input, quali collegamenti avevano i nostri maestri vetrai con il mondo culturale dell'epoca. Cioè, fare storia del vetro non vuol dire soltanto datare e attribuire a un dato luogo un oggetto, ma capire da dove viene, qual è tutta l'elaborazione culturale che porta un modesto maestro vetraio a creare un oggetto che in realtà è assolutamente all'altezza degli standard culturali della sua epoca. Quindi, in qualche modo, dovremmo, e spero che sarà fatto per il Museo Vetrario, non a caso, il Museo Vetrario ha prodotto fino adesso i cataloghi dell'Ottocento, tutti hanno paura di affrontare il Rinascimento, perché il Rinascimento offre tali varietà di problemi culturali sulla origine e sulla elaborazione di certi modelli che è veramente difficile affrontarli. Comunque, io so che, oggi come oggi, il Vittorio and Albert Museum sta, nella persona del nostro amico che è qui presente, Reino Lifkes, che è curatore di questa sezione del Vittorio and Albert Museum, sta cominciando a porre in internet la collezione enorme, meravigliosa, del Vittorio and Albert Museum. Il Corning Museum of Glass, forse il museo più importante del mondo, con fatica, rimandando il progetto, comunque un po' alla volta porrà in internet i suoi prodotti. Io, più mi addentro in questo tema, in questo campo, mi accorgo che c'è di tutto nel mondo vetrario dell'epoca. Parliamo della seconda metà del Rinascimento, seconda metà del quindicesimo secolo e sedicesimo secolo. C'è una capacità di vetrario, persone ignoranti, ma non poi tanto perché erano, sapevano scrivere, erano benestanti, avevano, non trascuriamo il fatto che c'erano le grandi ville dei nobili veneziani a Murano, eppure delle collezioni antiquarie a Murano. C'erano le visite di un'Isabella d'Este, piuttosto che di qualche Gonzaga, piuttosto che di qualche era di Francia, nelle ville muranesi, per cui le possibilità di contatto con la grande cultura c'erano. Per non parlare poi di Vivarini, che ha di origine muranese, e di altre frequentazioni molto importanti. Quindi, fare la storia del vetro del Rinascimento non vuol dire soltanto dare una data e un'attribuzione a Murano, piuttosto che a un luogo fa San Devenise, ma spiegare che è una cosa che più ti addente, più affascinante, come e perché, e quali fonti iconografiche, stilistiche, potevano avere i vetrari di Murano. Cioè, è molto più complesso e più ricco lo studio di quello che potrebbe essere. Di conseguenza, l'Istituto Veneto ha avuto la bellissima idea di iniziare con un tema oggi molto approssimativo, 1500 circa, perché è stato un pochino deciso in fretta, nell'attesa di avere poi, dagli studiosi che parteciperanno a questo convegno, delle suggerimenti per le prossime edizioni su temi molto particolari, perché oggi è il Rinascimento veneziano quello che sarà il tema futuro. E devo dire che amici che si occupano di storie, di storie dell'arte, di collezionismo, non dimentichiamo le grandi edizioni sul collezionismo veneziano del Rinascimento che sono uscite in questo periodo. Oggi il mondo veneziano del Rinascimento è, diciamo, un tema che piace a tutti. Io ricordo, mi ha portato l'amico Raino Lifkes, un libro del Vittorio and Alpermuseum sulla vita nel Rinascimento in Italia. L'Italia e il Rinascimento sono un tema oggi fascinosissimo. Non solo quindi la grande arte che in qualche modo è stata sviscerata, benché mai del tutto risolta, ma anche la vita, gli eventi, gli oggetti d'arte, non di arte maggiore, che popolavano le case del Rinascimento e che venivano anche vendute all'estero. Una curiosità, gli inventari veneziani del Cinquecento non presentano vetri. I veneziani, arrivati nel Cinquecento avanzato, non comprano vetri, però li vendono moltissimo all'estero. Quindi, altro problema da risolvere. Cosa c'è di veneziano nelle collezioni dei grandi signori della Germania, piuttosto che dell'Inghilterra? Oppure c'è qualcosa che è stato prodotto da vetrai emigrati o da imitatori di quei paesi? Quindi, un tema meraviglioso che si allinea con tutte le pubblicazioni degli ultimi tempi sul Rinascimento italiano, la vita nel Rinascimento in Italia, appunto, delle mostre, delle cose bellissime, degli studiosi americani, inglesi, che hanno affrontato questo problema. Diamoci una mossa anche noi, però con l'aiuto degli amici stranieri che vengono qui, che per tre giorni discuteranno con noi, che ci proporranno dei temi che a loro interessano e che un domani metteranno in internet o pubblicheranno dei libri su questo argomento. Quindi speriamo che tutto sia supportato dalla città, dalle istituzioni culturali, perché, onestamente, fino a questo momento il Novecento è stato un pochino il grande argomento di interesse dei collezionisti. Parliamo dei meravigliosi Carlo Scarper, Cole Barovier, Tommaso Bucci, tutti quelli che hanno fatto il grande vetro del Novecento. Forse in questo momento ne sappiamo abbastanza. Perché non torniamo indietro e affrontiamo questi grandi misteri, questi grandi interrogativi di questo meraviglioso vetro che, e chiudo con questo, ha dato il là a tutta la vetraia d'arte dell'Europa. Perché è da Venezia che c'è lì. Poi è chiaro che l'Inghilterra sviluppa un suo stile, che la Bohemia pure, ma il grande input, il grande stimolo viene da Venezia. Poi, per poi, svilupparsi in paesi che hanno, tra l'altro, dei supporti politici molto più importanti di quanto li ha l'Italia, che col Cinquecento un pochino viene devastata e finisce, e conclude il suo ruolo di grande propagatore della cultura. Però, quando abbiamo il cristallo inglese, nasce dalla pubblicazione di un vetro, di un toscano che però lavora con i vetrae veneziani, quando abbiamo il vetro bohema è perché i bohemi sanno, imparano dei veneziani come depurare le ceneri sodiche per fare il cristallo. Quindi, in qualche modo, grandissime tradizioni all'estero, non inferiore a quella di Venezia, però quella veneziana è, dopo quella islamica, quella che dà alla grande tradizione culturale del vetro, non trascuriamola perché in realtà esistono pochissimi libri sull'argomento. Per, diciamo, per assurdo, dico che il vetro veneziano del rinascimento è il più famoso e il meno conosciuto. Cioè, tutti conoscono, che so, la Coppa Barovia piuttosto che altri importantissimi oggetti che sono i più bei musei stranieri italiani, però ne sappiamo pochissimo come sono nati, da quali stimoli culturali in base a quali stimoli culturali sono stati elaborati e così via. Per cui, è il momento giusto per iniziare queste giornate di studio e continuare. Grazie. Grazie. si è capito non soltanto che è importante ma che è importante dare passione a questa anima, diciamo, a questo seminario, a questo workshop. Bene, allora adesso lascio la parola al professor Pierre Rosenberg, come ho detto membro del Crimi Francaise, straniero dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti e anche grande stimatore del vetro veneziano. Questo è molto esagerato. Vado sua, vado sua, vado sua. In verità, non so, sono molto grato di essere invitato e le parole non le troverò al momento giusto, ma soprattutto perché il vetro non lo conosco per niente, veramente, è un campo che è completamente, e soprattutto il tempo del rinascimento. Per me mi fa molto paura questi oggetti così fragili, ho paura che cadessero e mi fanno molto paura e mi sono molto impressionato dal fatto che avete queste tre giornate su questo campo. Spero che le giornate saranno pubblicate così posso leggerle e capire un po' meglio su questo vetro rinascimentale veneziano. Così, in un certo modo, ho poco da dire, soprattutto anche perché molto si è già detto attorno a me, questo è un po' il problema di quello di quella della persona che parla in ultimo. Ci sono tre vie di avvicinare il vetro, tre vie, farle, studiarle, lasciate questo, e fare la raccolta. Sono le tre vie molto diverse, tre vie molto diverse che in un caso bisogna di avere le conoscenze materiali per farle, per studiare, di avere le conoscenze teoriche, scientifiche e per collezionarle le conoscenze pratiche. Fare il vetro, fare il vetro, fare il vetro. Io sono piuttosto specialista di pittura, un quadro fatto da una persona, so che naturalmente ci sono botteghe, tutto questo lo sappiamo molto bene, ma infatti un quadro è fatto da una persona, un pezzo di vetro e il fatto di una collaborazione, una collaborazione di diverse persone, diverse forze, molto diverse. C'è il creatore, quello che fa il disegno, l'inventore, e c'è quello che ha la capacità molto difficile e molto importante di trasformare il disegno, l'idea in un oggetto, di trasformarlo e di fare un po' di questo disegno in una cosa sua, con delle colore sue, un disegno sue, c'è tutto un modo. Così in un certo modo come tutti i campi dell'artigianato, c'è sempre questa importanza della collaborazione tra diversi persone che possono essere il disegnatore, per i mobili si vede molto bene che la scelta del legno è molto importante, per il vetro si vede molto bene che la qualità del vetro e anche i colori scelti, il modo del quale sono messi assieme. Tutto questo è molto importante e così questo travail d'équipe, questo lavoro collettivo che ha per risultato un vetro è qualcosa di molto particolare e anche il bisogno di ben vedere chi fa chi, chi fa quale cosa. E questa, quando si dice venigno, quando si dice scarpa, si dicono due cose molto diverse. In un caso è una dita che vende vetri, in un altro caso è qualcuno che fa il disegno, manca anche la persona che produce il vetro. Così bisogna, la prima cosa, di capire come si fa il vetro e di capire l'importanza dell'abilità tecnica ma anche l'importanza dell'idea che c'è dietro. C'è questo strano equilibrio tra queste diverse cose che sono molto importanti. Naturalmente fare il vetro, torno questa volta a quello che si è dato prima, vuol dire una grande competenza e le cose che si sono dette su Murano mi pare molto importante. La decadenza o la caduta di Murano sarebbe un disastro non soltanto per Vennezzia ma per, credo, tutto il mondo e se un convegno come il quello può aiutare a salvare o aiutare in un certo modo Murano sarebbe già una cosa molto importante e credo che qui in un certo modo tutti siamo molto preoccupati di questo sviluppo e credo che è molto importante per noi tutti di fare del meglio per aiutare. Secondo punto studiare il vetro e questo sarà naturalmente il campo studiare il vetro e sarà naturalmente il campo di questi tre giorni e di studiare tutti gli aspetti più diversi. Io mi sono sempre chiesto perché si dice sempre fa son venise perché in francese in tutte le lingue perché? Io non ho la risposta spero che in questi tre giorni la posso saperla perché in francese fa son venise ho sotto gli occhi una non è una pubblicità un articolo su una mostra che in questo momento si fa a Liège come si dice in italiano? Liège si chiama Le vero spagnolo alla façon de venise il vetro spagnolo alla façon de venise con delle opere molto impressionanti una mostra che si fa in questi giorni mi pare che c'è un museo a Liège posso dire forse è un modo di una locuzione che nasce nel Settecento dove tutti parlano dove tutti parlano a francese anche a Venezia perché si parla anche della façon de bohème e quindi la Francia detta legge nella moda nel linguaggio non nasce prima bisognerebbe di fare le cose con più serietà voi francesi avete dettato la moda e il linguaggio bisogna di fare le cose con più di serietà di andare più a fondo e trovare i primi testi dove si parla non so se per esempio nell'enciclopedia si parla del vetro facon venisse no no ma di studiare perché in ogni modo studiare il vetro naturalmente è molto interessante e molto importante vuol dire capire come si sono fatti vuol dire anche come si può ristorarle vuol dire i materiali usati vuol dire anche capire chi si facevano questi oggetti perché erano ordinati e che quello che faceva che ordinava questi vetri aveva dei desideri molto precisi ossia al contrario comprava già cose preparate in vetrine allestite sappiamo per esempio molto bene che i pittori fino a un tempo molto recente fino all'ottocento non avevano i quadri in stock facevano quadri quando ricevevano un ordine di fare un quadro l'idea di avere così i quadri dove si entrava in una galleria per comprarne uno piuttosto dell'altro è una idea recente per il vetro non so come funzionava posso interlocuire con lei certamente c'era una produzione corrente però delle persone terribili come Isabella d'Este volevano quello che volevano e naturalmente gli operai erano nell'obbligo di seguirle e di fare in ogni modo mi pare su tutto questo rinascimento di capire meglio anche i prezzi di questi vetri erano i prezzi erano moltissimi altissimi o non tanto a qual momento i prezzi sono devenuti più accettabili a chi poteva tutte queste questioni che possono essere anche molto interessante di studiarle per il Settecento e anche per l'Ottocento naturalmente anche per i tempi più moderni naturalmente per il Rinascimento sono molto importanti così credo che questi tre giornati che dovrebbero come l'avete detto essere seguiti tutti gli anni di altre giornate mi torno verso il Presidente dicendo questo perché il campo è così largo che mi pare che continuare a far venire qui quelli che sanno numerosi o non tanti numerosi questo non lo so neanche anche perché come l'avete detto possono venire qui per allargare le loro conoscenze ma anche per tornando in patria capire meglio le risorse locale e come si può con le risorse locali capire meglio le cose che sono sotto la loro dipendenza sotto la loro autorità non vorrei dimenticare la terza parte di questo che vuol dire il collezionismo il collezionismo del vetro è naturalmente un campo abbastanza largo ci sono molti collezionisti generalmente specializzati nel vetro quelli che fanno la collezione di vetro non fanno la collezione di ceramiche o la collezione di disegni è un campo a sé una mafia come sempre quando c'è un collezionismo c'è una mafia una mafia al senso nobile della parola naturalmente il collezionismo del vetro ci sono quelli che fanno la collezione del rinascimento e ci sono quelli che fanno la raccolta di una ditta venini per esempio come avete fatto io faccio modestamente la collezione di animali di vetro anche i più brutti mi piacciono perché io credo che in una produzione come quella di Murano è interessante non soltanto di interessarsi ai grandi nomi ai grandi creatori ma di caprire un po' i piccoli dite quelli che volgono inventare qualcosa che non riescono e tutto questo mi pare interessante il collezionismo del vetro è naturalmente molto popolare ci sono in Francia naturalmente quelli che fanno la collezione delle grandi dite francesi la lì eccetera questi collezionisti sono soprattutto in Giappone non so se in Giappone ci sono collezionisti di vetro veneziano lo so molto bene in ogni modo il collezionismo è il terzo aspetto e che credo il collezionismo ha anche un modo di dare vita naturalmente alle fabbriche al fare come lo dicevo è un modo al fare ma anche al studio perché le collezionisti sono molto utili ai studiosi che naturalmente possono avere sotto gli occhi gli oggetti dispersi ma riuniti in una collezione e possono paragonarle e capirle meglio in verità ho parlato di questi tre modi di avvicinare il vetro mi pare che in verità c'è un quarto modo di avvicinarlo e qui siamo tutti assieme per questo quarto modo che è amarlo come si può amare il vetro è una pratica e anche di un modo di avvicinare tutto questo mondo del passato e anche di oggi e di capire che dietro questo vetro ci sono delle forze molto diverse ma che tutti hanno avuto anche loro l'amore del loro mestiere e amare il vetro è anche mi pare dare un omaggio a quelli del passato che si sono dato così a fondo nel studio della creazione e della protezione di questo vetro anche della protezione di questo vetro vi ringrazio grazie grazie grazie